Il Carnevale oggi ha giocato d'anticipo in piazza Nicoletti a Oltrisarco, numerosi bambini che non si sono lasciati sfuggire l'occasione di festeggiare la settimana più festosa e colorata dell'anno. Musica e tanto divertimento sono stati gli ingredienti indispensabili per la riuscita di questo pomeriggio grazie anche al supporto degli instancabili animatori. Tante ma soprattutto bellissime le piccole mascherine che hanno affollato la piazza e naturalmente l'appello non poteva mancare il tanto amato Spider-Man. Le associazioni hanno desiderato farlo questo sabato che non è ancora sabato grasso perché il prossimo sabato trova numerosissime altre iniziative e il quartiere ha bisogno e sente la necessità comunque di stare insieme e vivere questo Carnevale insieme. Le associazioni hanno provato a proporre una serie di giochi e iniziative personali dell'associazione di modo che ognuno avesse un fiore da regalare a chi veniva a giocare con noi. Grazie! Grazie a tutti!